allora allora buongiorno a tutti il cugino il cugino dalla parte di mia moglie ha mandato un un manifesto un messaggio sul facebook dicendo che la donna è è la donna è aspettare un po non ricordo più il messaggio che ha messo cioè in quanto riguarda la donna questo messaggio ula che bello c'è un grappolo ma non so boh cioè in poche parole ha mandato un messaggio per dire che la donna fino a un certo punto diventa deficiente oppure intelligente una cosa del genere o io non copio incollo perché per la semplice ragione quando spiego qualcosa che possa muovere le mani qualcosa lo dico quello che penso io personalmente no per fare la guerra con i bravissimi maritini eccetera eccetera o con le coppie è semplicemente ovviamente senza offesa io non vorrei offendere le donne però vorrei spiegare che come fatta la donna semplicemente cioè carattere al carattere al mente perché prima di tutto che cosa cerca la donna sicurezza soldi ricchezza la stessa cosa no no so e compassione cioè vuoi vuole essere compatita no come per dire brava ha fatto quello e quell'altro perché è vero che la donna che da un lato lavora molto più dell'uomo quindi prepara da mangiare si occupa dei bambini eccetera però ci sono dei mariti bravi intelligenti che danno un colpo di mano insomma no colpa di colpo di mano casalingo però se uno ci fa attenzione quanto la donna supera una certa età è là che iniziano i dolori dico quel 45 per cento delle donne la pensano in questo modo perché sono così perché prima di tutto se voi per esempio vi domanderete ma quanti caratteri ha io lo so ha dei caratteri infiniti perché ascoltando le coppie ascoltando il loro pensiero guardando magari internet quello che succede perché poi la donna viene abbastonata menata violentata queste sono cose che io non mi permetterei di farlo ma nemmeno voi non potete è debole perché quando per esempio dare uno schiaffo a una donna c'è da qualche parte questo pentimento no dice non si è difesa non si difende la donna ci sono le donne che merano però a confronto dell'uomo l'uomo è più forte della donna quindi è meglio evitare certe cose cioè picchiare non se va niente non se va niente perché poi col passare degli anni quanto per esempio applicano un discorso tra marito e moglie cioè che parla con l'uomo oppure magari dice fa capire i suoi sentimenti le cioè le sue colpe non le fa sentire mai perché furba perché la donna è furba quindi avevo detto all'inizio di questa trasmissione che quando la donna è giovane si va per lo cioè si parte per l'unione per lo sposalizio io direi darei un consiglio di riflettere bene quanto un uomo vuole sposare oppure lo fa per amore se riesce a capire quella cosa lì ritorna indietro dice ma perché me la devo sposare sto facendo un errore no questi sono sbagli che si fanno nella vita perché noi vi dovete ricordare che noi uomini e anche le donne cioè quello che c'è nell'universo è soltanto di passaggio l'universo dico la natura le piante perché una pianta può morire un animale muore l'uomo muore la donna muore non è che vivi un'infinità e meno male cioè io lo ripeto sempre siamo qui sulla terra per qualcosa allora all'inizio quando si sposa quindi la donna soprattutto diventa drammatica dice ah mio cugino che regalo mi fa quell'altro che regalo mi fa insomma parla con le amiche si misura il vestito da sposa le amiche la incoraggiano gli danno ragione poi però perché mancano pochi giorni o poche ore per potersi fare questa unione tra uomo e donna cioè questo matrimonio e la donna sarebbe è contenta insomma l'unica cosa della vita che c'è è questa festa questi regali questa unione poi ci saranno i figli eccetera eccetera però alcune coppie quando si sposano dopo due settimane magari divorziano insomma perché se io farei sarei farei parte del governo oppure sarei ministro farei un bel decreto legge ci divorziamo anzi va davanti al giudice di pace divorziamo ci separiamo io a te non ti devo dare niente e tu a me non mi devi dare niente quindi la cosa si finisce là perché poi la burocrazia gli incartamenti e il mantenimento insomma costa un sacco di soldi va bene questa è una cosa a parte perché poi il bello che quando si è sposata e si sposa la festa c'è i regali ci sono sicuramente la giovane coppia deve vedere quanti soldi ci sono per fare questo viaggio di nozze che è la più grande cagata del secolo però succede una volta sola in una vita entrambi dice va bene tutto ok si fanno le foto su tutti sono felici amore qui tesoro mio qua piccolo amore piccolo vulcino mio mia mia o non so sì sì si dicono delle parole dolci la giovane coppia giovane dice le parole dolci e poi scusate l'espressione si scopa parlando in italiano perché tanto vada in moda un vaffanculo si scopa eccetera e tutti i giorni tutti i giorni quindi lei guarda si compra vai corre in farmacia a comprare voglio vedere se sono incinta insomma tutta felice hanno un primo bambino nasce ci sono i regali dei battesimi il bambino cresce sarà un maschio una femmina insomma tutti felici e contenti poi il secondo figlio terzo figlio e quarto figlio dipende dalla coppia la donna dopo 45 anni di matrimonio dice io sono ancora giovane pensa e parla con le amiche il marito non sa nulla e dice mi voglio ancora divertire vado a ballare prendo i miei figli questa è una cosa bella perché quando la donna dice sì usciamo prendiamo i nostri figli e ci andiamo a divertire andiamo anche disconega perché si usa così soprattutto nei paesi come che ne so tipo san piaggio io sto parlando della mia regione tra l'abruzzo e il lazio perché poi ci sono queste feste campagnole ci sono i cantanti che vengono in piazza nel paese e quindi si esce si compro i giocattoli insomma la coppia fa la sua vita come tutte le altre coppie il problema ritornando ai mille caratteri che ha la donna perché non la capirai mai anche se tua moglie tu diresti magari ai tuoi amici al bar la conosco bene la so so come è fatta ma la donna è robot perché è un robot perché la pensa come un robot sa esattamente quello che fai giornalmente e dice quello che ripete sempre giornalmente al marito quindi per questo tu non non puoi mai capirla non può magari arrivata sulla una trentina d'anni che lei ha 30 anni tu ne hai magari 35 oppure sei più giovane di lei la donna si incomincia a truccare come si truccava una volta quindi usciamo prendiamo i bambini andiamo a ballare e in quel momento la non si trucca per te che tu sei tuo marito quindi voglio essere bella e presentarmi si trucca per gli altri con la sua idea con gli altri con la sua idea quindi la cosa diventa un po più pericolosa perché siccome che noi uomini siamo credini non riusciamo a capire certe cose perché poi tra l'altro mentre tu vai a lavorare ti fai un buscio di culo così lei magari si mette la minigonna col passeggino porta l'ultimo nato no a spasso al parco incrocia le gambe e che poi incomincia a fantasticare questo fantasma questo famoso fantasma e l'uomo poi che cosa fa nel suo piccolo cerca di dire di avere dei consigli da qualche parte a me mi hanno detto che esiste il punto g della donna perché magari l'uomo il marito che non ha più risorse per piacere alla mogliettina cerca il punto g per dargli più piacere ma questo perché se tu affondi il pennello tutti i giorni a un certo punto quando tua moglie si stanca dicevo vattene a fanculo allora tira fuori delle scorse perché bevi perché esci con gli amici e mi lasci sempre sola insomma la incomincia il lato più pericoloso no molto più pericoloso perché perché poi un certo punto riesce a capire qualcosa dice fai tilt e dice ma che cazzo io vado a lavorare causalmente non prendete mai festa un giorno lavorativo che domandate al vostro patrone devo andare a casa per alcune cose non lo fate non lo fate proprio per niente perché potrebbe anche capitare che troveresti qualcuno a posto tuo a letto con tua moglie ma questo sarà impossibile però se vivere in un piccolo paesino la cosa si sparge subito perché dicono magari quelle vecchi arelle che stanno davanti alla porta a fa la lana dicono ha visto quella ma metto le conno marito sai come parlano loro questi io li chiamo campagnoli perché intenzione il campagnolo è molto più intelligente del cittadino perché il cittadino che conosce cose moderne mobili invece campagnolo ancora ha la candela accesa per poter leggere se riesce a leggere se è andato a scuola in conclusione come fatevi accogliervi che lei va a letto con altro semplicemente che quando entri a casa se stanco ti culla ti fa delle carezze ti dice ti piace è troppo salato insomma sta molto più vicino perché intanto poi incomincia e inizia la gelosia poi ci sono i dedicate e si sa guardi in faccia i bambini ci sono davanti i bambini dedicate dite porca miseria e poi penserete sicuramente ho fatto uno sbaglio da qualche parte no perché ci sono le coppie che si vogliono bene e ci sono delle coppie che sanno che entrambi si mettono le corna e so contenti e felici in questo modo invece che l'uomo che suda che lavora per i figli e per la donna lo fa con un certo criterio di dire devo ricevere un premio questo è uno sbaglio che premio per la semplice ragione che nei paesi oppure negli intorni delle città nei quartieri quando si avvicina una coppia magari lei non è bella lui è un bell'uomo quindi lo fanno per sfregio no perché si accoppiano e poi lei con le sue amiche ha detto hai visto che bello che bel fusto che ho trovato hai visto gli faccio tutto gli faccio tutto questo tutto io lo chiamerei come tipo insalata una bella insalatiera perché uno quando si sposa e si accoppia per l'amore o non so è come una sorta di bacinella riempita di insalata perché ammischia 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 perché la vita matrimoniale è un ammischio è inutile che voi dite sì poi portate la fede siete fieri ci sono alcuni che se la tolgono perché voi dite ai vostri amici a mia moglie e mia moglie e poi magari i vostri amiglietti ridono sotto i baffi perché sanno che gli ha messo le corna oppure viceversa perché io ho conosciuto delle coppie che lui era bello e lei era brutta a momento opportuno sì ma perché si accoppiano queste coppie per la semplice ragione che o buco è difficile trovarlo in periferia della città o buco avete capito? insomma è l'inizio della motorità del ragazzo che diventa uomo allora lui ti è tutto fiero prima che si sposa ah io sto con quella mamma, sono scopata insomma è contento per sé ma è brutta perché poi se ne accorge dopo e viceversa è la stessa cosa mi sono preso un marito tutto zoppo, tutto brutto, vaffanculo e questo è, cioè personalmente e poi fisicamente gli errori che è stato fatto sia da parte dell'uomo e della donna fisicamente non si piacciono più quello è il problema cioè lui se lui dice io me la so scopata e l'ho mandata a quel paese tanto di cappello cioè che lei insiste, non so che lei insiste insomma ma tanto di cappello che ci sono le coppie brutte che si vogliono bene questo non è un dubbio può darsi pure che la cosa potrebbe funzionare però la donna è maliziosa, è furba non la fregherete mai ve lo dovete mettere in testa voi vi state dicendo, domandando perché ho fatto questo video perché è per spiegare è per spiegare al cugino di mia moglie per cui ancora forse non ha capito alcune cose ed è semplice perché quando arriva il momento quando tu hai la peregina in mano quando apri la tua mano dopo un determinato di tempo ti trovi solo le ali non c'è più niente non c'è più niente da fare non c'è più niente allora cretino la persona che gli corre dire amore mio non fare così dai ti compro quello ti compro una collana no se lei si comporta in quel modo se la mandare a fare in culo in tempo fatelo direttamente fatelo fatelo e poi agli amici che gliene frega agli amici perché io personalmente dovevo dire agli amici che ho lasciato a mia moglie me ne vado cambio paese cambio città me ne vado a fanculo pure io perché questa è una rovina cioè una rovina che rovina prima di tutto il divorzio è a causa dello stress siamo stressati l'uno contro l'altro perché quanto tenesci da una certa pelura pelura paurosa stai bene stai benissimo perché è inutile che la donna cioè se vuoi vedere sì sì amore non lo faccio più no e mica si deve comportare così un uomo come si compara come si deve comportare lei strilla ma lo schiaffo lo do veramente perché i pantaloni li portate voi uomini le gonne le portano le donne se è viceversa vuol dire che l'uomo è diventato ricchione perché è arrivato a un certo punto che deve fare dopo i 50 anni non sei buono fa le seghe tutti i giorni forse mi sto sbagliando allora se una persona un uomo riesce a capire l'intelligenza della donna tanto di cappello eh sì poi la separazione che cosa è dovuto è dovuto magari che l'uomo dice ma che se ne frega tanto vado ubriaco a casa ma scumo perché ce l'ho c'ho mia moglie ma scumo cioè non riflette nello stesso modo non è non è non è più una cosa amichevole amorosa non c'è cioè dopo i 50 anni oppure dopo i 40 anni questa cosa sparisce per sempre sparisce per sempre perché non solo che tu divorzi gli devi dargli i sordi per il mantenimento dei bambini la devi pure accudire la devi dire sì tutto a posto perché se per caso tu dici sì faccio il bravo non devo più o tutte queste cose qua ma quella ti dice non è perché voi voi uomini avete questo sentimento dice magari mi riprende ma una cosa che è persa è persa allora che cosa fa questo giudice di pace dà la colpa il 50% la donna e il 50% all'uomo gli dice quanto guadagni allora lui fa un conto approssimativo dice devi dare 100 euro ogni bambino ogni bambina insomma per aiutarla per le spese e poi a 18 anni non gli dà qui niente la puoi vedere tale giorno e tale giorno questo che fai giudice cioè in poche parole non lo può fare in povere parole perché cazzo te ne frega a te e ciò che a me piacerebbe che ci sia un decreto dice sono lasciati basta ti fai assistere dal governo italiano tutto quello che vuoi e io ho il diritto di vedere mio figlio o mia figlia ho il diritto e se a Natale o per le feste le feste vagane se vogliamo dirlo così se io gli voglio fare i regali che cazzo gliene frega il giudice cioè per dire papà è là papà esiste perché ci devo dare i soldi per comprarsi i preservativi no cioè questo è un altro conto a parte quindi caro Marco la donna te fotte te fotte sempre sarai sempre fottuto perché per finire la parte intelligenza dell'uomo passa all'ignoranza è così è la vita di coppia non c'è niente da fare se tu arrivi coppia a 70 anni o 40 50 anni di matrimonio è un miracolo perché poi esce quella cioè un'amicizia non è amore è un'amicizia quindi io quando mi siedo al bar e bevo un caffè fuori al terrazzo marciapiedi dove mettono le sedie i tavolini come si usa in Italia sta lì e beve il caffè e fumo una sigaretta poi ne fumo un'altra poi ne fumo un'altra e guardi guardi l'orologio e poi guardi perché arrivato fino a una certa età certo anno di matrimonio dice se vado a casa o non vado a casa a mia moglie non gliene frega niente perché se il pensiero dell'uomo dice io se divorzio ho paura di perderla ma fallo perché tanto l'hai persa e non perché ti attacchi fallo cioè l'uomo deve essere più forte della donna no per dichiarla mai ma moralmente la puoi massacrare dicendo ah sì è così me ne vado tolgo il disturbo me ne vado non sto dicendo per per separazione eccetera cioè secondo non è la mia esperienza ascoltando le altre persone che magari dicono cazzate ti fai un culto diventi tu intelligente tu uomo dice ma che cazzo me l'ho fatta fare chi me l'ha fatto fare questo è il problema della donna è un grande problema perché quando ti arrivi e hai già capelli bianchi la sofferenza è lei che te la dà questo è poco ma sicuro non è l'uomo è lei lei l'altra ce l'ho con tutte le donne sono loro perché noi uomini siamo perché siamo dei cretini perché con la fregna perdiamo la gata questo è il mio modo di espimermi non perché cioè quello che ti fa rabbia a te magari che tu ascolti magari un'amica che ti vorrebbe possedere o altre non lo so succede a tutti gli uomini ti dice lo sai che tua moglie ha detto quello e quell'altro cioè la cosa ti fa molto più male perché non te lo dice faccia perché la donna è falsa furba e intelligente è falsa ecco dove voglio arrivare tutte sono tutte uguali allora se tu devi comprare un panino per far mangiare tua moglie io preferisco andare a pagare una puttana in masco arrivato a questo punto là perché ci sono tanti punti da poter chiarire della vita perché mio nonno diceva sempre e chiudo il video chiudo il video mio nonno diceva sempre quando avrai 90 anni tu nella vita non ci hai capito ancora un cazzo solo quando morirai capirai che cos'è la vita perché i sentimenti perché nella vita ci sono sentimenti c'è l'amore c'è tutto cioè è bella la vita ma i sentimenti la metà io do del falso perché se la persona ti dice ti vuole bene o ti amo otturatevi le orecchie non ci credete perché è falsa questa è la cosa più brutta il nome più cioè l'oggettivo più brutto la falsità perché è raro che tu vedi una coppia che si danno la mano a 70 anni si danno ancora la mano come se fosse il primo giorno d'amore perché noi diciamo l'amore l'amore vuol dire tante cose rispetto ma tu come fai tu uomo che magari soprattutto nei quartieri di Roma che se la sono scopate tutte tu arrivi tu stronzo e te la sposi ma non è perché peccativeria te la sposi ti sei sposato una puttana perché noi chiamiamo puttane anzi questo è il nome bruttissimo perché è un mestiere fare la prostituta è il mestiere più antico al mondo più antico al mondo ma oggi come oggi le coppie la donna la donna lo fa gratuito perché alla donna gli piace bello duro perché se tu arrivi dal lavoro tutto stanco devo accontentare mia moglie tu pensi dimenticano ciao a tutti alla prossima video ciao metterò questo video su youtube poi su facebook poi faccio un passaggio così perché ritorno nella mia pagina ci sono dei video in francese e ci sono dei video in italiano quello che ho detto questo video scriverlo a mente diceva Dodo perché occasionalmente se voi andate su youtube e scrivete le coppie o ascoltate sono dei pareri diversi però siamo tutti uguali perché siamo degli esseri umani ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti